Non contano solo i numeri, i dati vanno anche saputi leggere. Così il direttore di Confesercenti, Mario Checaglini, smorza gli entusiasmi sui dati diffusi dalla provincia di Arezzo legati ai flussi turistici in questo 2013, che facevano segnare addirittura negli ultimi nove mesi un più 10%. Piano rispetto, dichiara Checaglini nei confronti di chi ha lavorato, ma il trionfalismo non va d'accordo con quello che accade invece di mese in mese nelle imprese tradizionali del turismo. Mi riferisco continuo a Checaglini agli alberghi. Gli imprenditori del settore a fatica riescono a mantenere il conto economico in pareggio. All'interno delle reception non sono state registrate crescite significative, al contrario del dato annunciato in queste ultime ore, con punte fino al 21%. La sensazione è che il turismo cresca, sì, ma in percentuali modestissime e comunque insufficienti. Secondo la Confesercenti, il boom turistico è stato influenzato da alcuni fattori specifici e forse irripetibili. C'è preoccupazione perché le strategie di crescita del settore latitano. La stessa provincia di Arezzo è stata vittima delle politiche della regione toscana, che dopo l'abolizione delle APT non ha chiarito quali siano i soggetti istituzionali che debbono operare per la crescita del settore, tanto da far ritenere che in fin fine la riforma sia solo servita a ridurre gli investimenti per la promozione del turismo.